Voga 2015, giorno 24. L'argomento di oggi è «Giorno oppure notte?». E direi che è una domanda molto interessante, perché il momento della giornata che mi carica di più è l'alba. Io mi sveglio ogni mattina tra le cinque e le cinque e mezza, tra l'altro è una maledizione che mi porto appresso, perché quando sono in vacanza mi sveglio comunque sempre a quell'ora, perché il mio metabolismo mi porta a svegliarmi a quell'ora. Adoro l'alba. In estate il sole si sta alzando, in inverno ancora non è alto, e quindi comunque è il momento in cui si alza il sole, che è un momento che mi dà una grande carica. E sicuramente l'alba, quindi una via di mezzo tra la notte e il giorno, la fine della notte e l'inizio del giorno sono il momento in cui prendo la maggior carica nel corso della giornata. Però osservo anche che il giorno è la parte della giornata in cui sicuramente sono più attivo, perché è il momento in cui lavoro, è il momento in cui svolgo le mie attività, e la notte, sopra un certo orario, è quello in cui preferisco la poltrona o il letto, un e voi, invece, giorno o notte? Fatemelo sapere con un commento, e naturalmente ricordate pollice in alto, condividi e iscrivetevi al canale. Io sono Grizzly, questo era il giorno 24 del vlog ogni giorno in agosto. Noi ci vediamo domani col prossimo vlog. Ciao a tutti!